Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Thailandia, ci sono tante novità anche oggi in questo episodio, in particolare su tanti numeri che riguardano l'economia thailandese, numeri che sono sicuramente interessanti, andiamo a vederli perché effettivamente alcuni di questi sono sorprendenti, ci danno l'idea di quella che è in questo momento la situazione dell'economia thailandese, ovviamente derivante anche dal turismo, ovviamente overview che interesserà sicuramente a chi è interessato non soltanto a Thailandia come meta turistica ma più in dettaglio per capire appunto come si sta evolvendo la situazione soprattutto economica in questa post covid era appunto in Thailandia, adesso andiamo a vedere diversi articoli, diversi numeri appunto che poi possiamo commentare insieme come sempre sul canale, come sempre ragazzi intanto prima di cominciare il nostro video, quella che vedete a schermo la playlist Thailandia del mio canale youtube, ci sono tanti video aggiornati, c'è anche la notizia secondo il quale sarebbe vicinissima l'estensione del visa on arrival, quindi quando arrivate in Thailandia non più 30 giorni ma 45 giorni, trovi tutti i dettagli in questo video, Thailandia 45 giorni senza visto, ecco la data, se ancora non l'hai visto guardalo, commentalo, lasciagli anche un like, ti lascio il link qui in alto, guardalo, ovviamente se il canale ti interessa ti consiglio di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per notifiche appunto dei prossimi video, dei prossimi live che faremo sul canale e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di youtube, ora come sempre, sigla e poi cominciamo! I primi numeri che apprendiamo da Thailand Business News sono le prospettive di avere 9.3 milioni dei turisti nel 2022, questo tra luglio e fine anno, le previsioni che appunto stanno marciando bene dopo la riattura del turismo della Thailandia appunto a partire da luglio e questo è il primo numero sicuramente molto importante perché questo di fatto è il numero che va anche a aggiornare quelle che sono le previsioni per quanto riguarda la crescita dell'economia thailandese, sappiamo quanto è importante il turismo per l'economia thailandese e adesso andiamo a vedere quelli che sono i numeri aggiornati, ci colleghiamo questa notizia con quello che scrive oggi le Thai Eger, l'economia cresce di più ma ancora soffre, comunque mancano ancora i ricavi di introiti derivanti dalla Cina, sapete che la Cina ancora è molto bloccata sul discorso covid, persegue i covid case zero e quindi ovviamente i turisti cinesi ce ne sono molto molto pochi, nonostante questo però la crescita dell'economia thailandese è più alta di quello che ci si aspettasse, addirittura in un intervento si aspetta una crescita del 3.3%, numero sicuramente molto molto alto, questo perché appunto le prospettive del turismo sono molto molto buone, qui vengono riportate che le previsioni sulla crescita vengono appunto apprese facendo la mediana di un panel di esperti questo ci interessa poco però previsioni sicuramente in rialzo, come dicevamo appunto stime che possono andare ancora più in alto qualora effettivamente poi la Cina decidesse o riuscisse finalmente a far tornare a viaggiare di più le persone, sappiamo quanto la Thailandia è meta di turismo anche per quanto riguarda il turismo cinese, cinesi che ovviamente hanno capacità di spesa anche molto elevata. Per quanto riguarda quindi il discorso di recessione dell'economia mondiale la Thailandia sarebbe fuori da questo argomento perché sarebbe con una crescita sopra il 3% e questo ripeto sarebbe sicuramente molto importante. Di questi dati li abbiamo presi anche dal sito di World Bank che riporta per quanto riguarda la Thailandia una crescita attesa del 2.9%, dato in linea con quello che abbiamo visto prima si parlava di 3.1%, per quanto riguarda sempre la Thailandia viene riportato un debito pubblico leggermente rialzo al 62.5%, ma sappiamo che è un livello assolutamente sostenibile, per intenderci l'Italia ampiamente sopra il 140%, questo comunque consentirebbe alla Thailandia di far ricorso al debito per potersi finanziare nei prossimi anni con l'erogazione di titoli di Stato per andare a finanziare la propria economia, che punta alla transizione ecologica e a migliorare quella che è la proposta turistica. Questi sono i due marchi di fabbrica che appunto la Thailandia sta mettendo sul piatto a livello soprattutto internazionale. Per quanto riguarda sempre altri dati dell'economia vengono riportati anche come a maggio l'inflazione ha toccato 7.1%, un massimo di ultimi 13 anni, probabilmente si vedrà una crescita anche lì per quanto riguarda l'inflazione, per quanto avremo dato anche degli ultimi due mesi. Da punto di vista finanziario comunque la Thailandia rimane un paese solido, non ci sono problemi per quanto riguarda il fatto di onorare i debiti con i mercati internazionali. Il dato secondo me più interessante è quello della crescita economica, ripeto, quasi 3 da 100 in questo momento è sicuramente un ottimo risultato. C'è spazio poi sempre in questo aggiornamento sul discorso più complessivo di come questa crescita sta avvenendo, fondamentalmente crescita economica che in Thailandia è di fatto da ricondurre alla riapertura del turismo, abbiamo detto tante volte, a luglio è ripartito di fatto il turismo di fatto come ai vecchi tempi, non ci sono più barriere all'entrata e questo sicuramente dà un impatto. Sappiamo che i biglietteri sono nettamente più costosi rispetto al passato, però comunque tanti turisti stanno tornando da qui, insomma l'abbiamo visto prima, l'attesa di avere da qui a fine anno un totale di circa 9.3 milioni di turisti. Ultimo punto, c'è il aggiornamento per quanto riguarda i casi covid, 2455 casi quest'oggi, insomma un numero assolutamente sotto controllo, non c'è alcun tipo di problema per quanto riguarda appunto il covid in questo momento in Thailandia, quindi insomma tutto procede per il meglio. Ovviamente ragazzi come sempre andremo avanti a monitorare insomma quelle che sono le news per quanto riguarda la Thailandia qui alle prossime settimane, come sempre alternando anche video più di dettaglio come questo, dove abbiamo visto quelle che sono le condizioni dell'economia thailandese, insomma tanti di voi mi chiedete anche questa tipologia di video. Eccoci qua appunto, questo è un aggiornamento che secondo me è sicuramente importante. Ovviamente ragazzi grazie per aver visto il video fino adesso, come sempre questa è la playlist, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, come sempre grazie, un abbraccio e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!